Allo stato attuale abbiamo innanzitutto fatto un'ordinanza, la numero 1, che riguarda la microzonazione. La microzonazione è un'attività di completamento di una precedente microzonazione minore che era stata fatta su scala nazionale della protezione civile, il livello 1 era detto. Noi avremo il livello 3, quindi avremo un monitoraggio completo che dovrebbe essere fatto entro sei mesi di tutta la condizione idrogeologica dell'isola d'Ischia nelle parti abitate però. e con particolare riguardo a quei tre comuni in cui si deve operare. Sono stati stanziate delle risorse e assegnate ai tre comuni perché alcune attività devono essere condotte in loco da dei tecnici trovati sul territorio. Quindi oggi vedremo con i sindaci se hanno provveduto in questi termini e opereranno in stretto contatto con il CNR che pur hanno avuto da noi un piccolo finanziamento per svolgere questa attività. Inutile dire che è fondamentale questa attività per quelle che saranno le attività successive, quelle di ricostruzione. La seconda ordinanza che pur è stata adottata sui modelli già sperimentati per l'Italia centrale è quella che riguarda la riparazione dei cosiddetti danni lievi. I danni lievi sono i danni che hanno interessato le strutture abitative o anche produttive o anche pubbliche nella misura non superiore al 30% e devono avere un carattere fondamentalmente non strutturale. Quindi questo è il tipo di intervento. È un intervento che consente in modo molto semplificato ai proprietari degli immobili o a chi in qualche modo ne ha la detenzione e ne ha titolo di procedere a queste riparazioni con una semplice comunicazione al Comune fatto salvo per la presentazione successiva di documentazione che è fondamentale ai fini poi del ristoro economico, quindi del contributo che verrà assegnato e che potrà essere assegnato però soltanto per le parti legittime dell'immobile. Quindi se un immobile è del tutto legittimo avrà un risarcimento completo, se l'immobile è parzialmente legittimo e parzialmente abusivo è in proporzione alla sua parte legittima. Mi scusi, la chiarificazione, ci vengono anche delle sollecitazioni dai cittadini, questo significa praticamente che dovranno anticipare le spese per la ricostruzione per poi vedersi riconoscere eventualmente il ristoro? Inevitabilmente sì, è un trattamento economico e successivo che è sottoposto soprattutto al controllo sulla legittimità del titolo, cioè se il soggetto opera su un immobile legittimamente costruito non ci sono problemi, può lavorare tranquillo e altri soldi li avrà. Se invece l'immobile è parzialmente abusivo sa dall'origine, all'inizio, che c'è questo problema. A proposito dell'abusivismo, poi bisognerà mettere mano finalmente a queste pratiche che sono interessate dai condoni? Per l'abusivismo noi abbiamo autorizzato i tre comuni a delle assunzioni straordinarie, anche di questo oggi parleremo, che sono fissate già nei numeri dal decreto legge, non si può derogare dai numeri che sono lì stabiliti. Il carico economico è del commissariato, cioè saranno naturalmente pagati questi trattamenti economici dai commissari e io spero che vengano nominate persone qualificate. Abbiamo ottenuto anche dal Ministero e dal Ministero dei beni culturali un rinforzo di personale per le sovrintendenze, in quanto le attività che riguardano il condono edilizio dovranno essere portate avanti contemporaneamente da Comune e sovrintendenza. Quindi noi contiamo che effettivamente si possa arrivare all'agremente a un risultato, considerando che in fin dei conti le pratiche di condono sono un migliaio, questo è tutto, tre comuni. Quindi con la rinforza di organico io reputo che in tempi abbastanza rapidi possano essere affrontate e risolte. E poi stiamo cercando di pianificare gli interventi per la riparazione delle scuole, già ci sono una serie di finanziamenti per dei lavori urgenti. Adesso con la pianificazione cercheremo di vedere quelle che sono le risorse complessive, perché i primi fondi stanziati sono di 6 milioni, di cui 4 impegnati già dal Ministero e il resto farà carico a noi.